Sono Giulia, sono docente di pasticceria dell'ente Sli, dello Sli Food. Ho 23 anni. Mi sono diplomata ad Alma, la scuola di pasticceria di cucina di Gualtiero Marchesi. E lì ho imparato tutto quello che so praticamente le basi, soprattutto di pasticceria. Dopo Alma sono andata a lavorare a Londra, ad Errols. E dopodiché ho lavorato al ristorante del cambio, come chef pasticcere. E dopo il cambio ho in nave per un anno. Nave da crociera, come suo chef di pasticceria. A me piaceva sempre, quando ero piccola, aiutare la mamma a fare le torte, a mettere la farina, poi tirare la farina in testa a mia sorella, era una cosa veramente divertente. Dopo ho realizzato, verso i 17 anni, che mi piaceva veramente tanto, rendere felice la gente tramite il dolce. Quindi vedere le espressioni che ognuno fa, ogni espressione sono diverse ed è molto gratificante. E' molto bello. Bella la pasticceria, è un altro mondo. Si crea tutto dal nulla ed è una cosa fantastica. Grazie. 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 Grazie a tutti.